Umberto Mercurio, presidente dell'Associazione Genitori dell'Ottavo Circolo Comprensivo Oriani di Licola, ma che è anche delle succursale a Via Saba a Monte Ruscello. Allora, quali sono le cose che non vanno? Beh, qui purtroppo abbiamo il solito problema. Abbiamo circa mille ragazzi che non hanno di fatto le palestre. Noi dovremmo avere in teoria due palestre, una qui a Licola Oriani e un'altra che c'è di fatto, ma che non funziona perché ha avuto un guasto alle fogne due anni fa e il Comune ad oggi non sta ancora provvedendo alla rimessa in funzione della palestra. Parla della succursale a Via Saba a Monte Ruscello? Sì, parlo di Via Saba a Monte Ruscello dove c'è una situazione a dir poco strana. I ragazzi per fare attività fisica prendono il pulmino e vanno al Palambutangassa a fare nuoto con gli insegnanti di educazione fisica che tra le altre cose lì ci sono. Quindi non si capisce il Comune cosa sta aspettando. Abbiamo chiesto il Comune, ci hanno detto così che stanno mettendo in campo iniziative per poter reperire i soldi. Qui parlano di 150 mila euro per rimettere a posto quella palestra. Noi stamattina abbiamo protocollato una soluzione alternativa. La soluzione alternativa è rivolgersi a delle aziende che stendono a terra dei materiali diversi e che con 10 mila euro si potrebbero tranquillamente rimettere in funzione quella palestra e dare la possibilità ai ragazzi, almeno di Via Saba, di fare attività fisica. E questo circolo, quello di Licole invece, qual è la proposta? Per questo di Licole la proposta è sempre la stessa. Vogliamo la palestra, vogliamo le aule che ci mancano. Qui non si può programmare nulla se non ci danno la palestra e le aule che mancano. Qui hanno fatto una delibera nel 1986 ed è ancora ferma lì. La palestra non è stata mai ultimata. Hanno fatto la scuola che voi vedete alle mie spalle e dopodiché si è fermato il tutto. Si è fermata la costruzione della palestra e delle altre aule. Quindi ha messo a repentaglio veramente i ragazzini, i nostri bambini qui, non fanno attività fisica. Abbiamo circa 300 bambini solo qui. E allora c'è un poco di solidarietà, finalmente la vogliamo da questa amministrazione. Che venissero qui, ci venissero a parlare, abbiano il coraggio di metterci una volta tanto la faccia. Non è che noi scriviamo e nemmeno ci rispondono.